I lavori di ristrutturazione del ponte Giuseppe Verdi di San Daniele Po devono ancora cominciare, forse tra pochi giorni, e invece l'autovelox a sorpresa è già entrato in funzione poco prima di Natale, collocato sul ponte dall'amministrazione provinciale di Cremona il 20 dicembre, con una spesa di meno di 40.000 euro per porre fine alla serie di incidenti e di comportamenti scorretti degli automobilisti. Infatti, malgrado il limite dei 30 km orari, tra eccessi di velocità e sorpassi, sul ponte vigeva la legge dell'Ouest, infatti il logoramento delle strutture ha costretto a modificare la viabilità da due a un solo senso di marcia. È stata decisiva l'ordinanza del prefetto di Cremona, mentre il sindaco Davide Persico aveva richiesto altre soluzioni, non l'autovelox. Una valanga di multe e di proteste ha così caratterizzato il periodo natalizio, ora il traffico è rallentato, tanto che ci vogliono tre quarti d'ora per passare dalla sponda emiliana a quella cremonese. Dunque, mezz'ora in più. La fine del 2018 in amministrazione provinciale è stata segnata, tra l'altro, dall'accertamento dei ricavi da multe. Il dirigente della Polizia Provinciale, Marco Barborini, ha messo nero su bianco 1.644.724 euro di ricavi da telelaser e autovelox nel 2018, di 503.000 fra il 30 settembre e il 20 dicembre. Per violazioni d'altro genere al codice della strada, l'ente provincia ricava 791.000 euro nel 2018, di cui 160.000 tra la fine di settembre e il 20 dicembre. Si aggiungono 251.000 euro ottenuti nel 2018 dalla riscossione delle multe non pagate, dati che sono destinati a salire con il prossimo aggiornamento, che comprenderà anche le sanzioni di San Daniele Po. L'imminente cantiere non rallenterà però ulteriormente il traffico, perché i lavori di ristrutturazione si svolgeranno in Golena, al di sotto della strada. La proprietà è della provincia di Parma, dove in febbraio si svolgerà la gara per il secondo appalto, per completare l'opera sempre in Golena. Gli automobilisti potranno tornare a circolare a doppio senso di marcia solo al termine del primo cantiere, probabilmente a giugno.